panoramica sulla sala per poter vedere anche le persone che stanno arrivando e per vedere anche appunto la grande affluenza questa è la risposta sociale appunto del pubblico e delle persone verso questa bellissima iniziativa dell'associazione Altrementi di Frosinone con sede a Ceccano la sala sta per riempirsi molto importante appunto la presenza ovviamente di gente perché come ha puntualizzato il presidente dell'associazione Altrementi Marco Massa anche attraverso i contributi di queste iniziative passano appunto delle cifre che consentono la realizzazione di servizi per questi ragazzi stiamo vedendo in questo momento appunto la sala principale dell'hotel Villa Ida che ospita il pranzo di oggi dell'associazione a 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di tutto quello che non so, di tutto quello che non ho. Eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli del cobalto c'è. Eppure sentire nei sogni in fondo a un pianto, nei giorni di silenzio c'è. C'è un senso di te. C'è un senso di te. C'è un senso di te. Nei fiori tra l'asfalto, nei cieli del cobalto c'è. Eppure sentire nei sogni in fondo a un pianto. Nei giorni di silenzio c'è. C'è un senso di te. 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 C'è un senso. C'è un senso di te. 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 terapeuti italiani. E ne dobbiamo essere orgogliosi di questo perché anche se è nata da pochissimo tempo viene utilizzata già in tutto il mondo. Fare terapia TMA, dicevo, ha dei costi molto alti. Noi la vogliamo portare qui a Frosinone perché comunque crediamo in questo tipo di terapia e quindi queste raccolte fondi ci aiutano a realizzare questo piccolo sogno. Ricordiamo che l'associazione Altrimenti opera dal 2014 e di sicuro tante tante cose belle sono state fatte e verranno fatte anche in futuro Per adesso vi salutiamo e ci ritroviamo più tardi quando praticamente avremo anche un contributo di filmati per vedere quello che è stato realizzato in questo periodo Dico bene Presidente? Ok, a dopo Eccoci di nuovo, siamo sempre qui nella bellissima location di Villa Vida Ceprano per poter trascorrere insieme questo pranzo in compagnia dell'associazione Altrimenti di Frosinone con sede a Ceccano Sono le ore 13.10, facciamo questa ripresa quasi live per informare i telespettatori che la sala è quasi piena del tutto Abbiamo preso posto anche io e il fidato Cesare Calicchia che sta effettuando la ripresa e questo è il menù del pranzo Rispettivamente del terzo pranzo di beneficenza dell'associazione Altrimenti di Frosinone, lotta all'autismo L'autismo, questa sindrome molto importante che cambia la vita di tutti E quindi con questa associazione cerchiamo di portare sollievo, conforto e soprattutto sostegno alle persone che ne vengono colpite e soprattutto alle loro famiglie Si sta svolgendo questo terzo incontro dell'associazione Altrimenti di Frosinone con sede a Ceccano La sala è totalmente piena, ci sono tantissime persone che oggi sono venute qui desiderose di dare il loro contributo e la loro partecipazione proprio fisica a quello che comunque è un problema che in qualche modo l'associazione sta fronteggiando con tutte le varie iniziative Abbiamo qui una signora, bella signora fra l'altro, buongiorno Grazie per la sua disponibilità innanzitutto Le cedo brevemente il microfono per parlarci di questa giornata, le impressioni, se è la prima volta che partecipa e la sua esperienza magari nel campo del sociale attraverso l'associazione Allora grazie, buongiorno a tutti Ecco io voglio, diciamo che voglio ricordare questo giorno come l'impegno di tante persone tra cui la mia carissima amica Giovanna quindi altre persone comunque che fanno parte dell'associazione Io diciamo che l'ho vista nascere ecco perché poi essendo molto amica con Giovanna quindi ho visto diciamo dall'inizio quindi in poi Allora è nata per lo più perché ci sono questi ragazzi quindi questi bambini che hanno bisogno di un aiuto specifico e molte volte le famiglie non hanno tutti diciamo tutti i supporti quindi che dovrebbero avere per un tipo di problematica quindi che hanno purtroppo in famiglia quindi vengono lasciati da soli e questa associazione aiuta largamente queste persone quindi in modo specifico anche dandogli dei supporti che in altri modi non lo avrebbero quindi io ringrazio tantissimo diciamo la mia amica e tutti quelli che fanno parte dell'associazione per avermi invitato per avermi invitato, per me e anche mio figlio anche perché partecipi i ragazzi con questa iniziativa è molto importante e quindi credo che vada tutto bene anzi io la vedo giorno per giorno quindi che continuo ad avere molti riscontri per cui sono molto felice di questa cosa e grazie per avermi fatto parlare ora insieme a tutti gli altri svolto dall'associazione Altrementi per poter appunto riuscire ad aiutare queste persone in difficoltà Ascoltiamo un'altra testimonianza magari questa ragazza lui e allora passiamo da questa parte associazione Altrementi una splendida giornata trascorsa qui presso Villa Ida stiamo consumando un pasto buonissimo perché Villa Ida ovviamente si distingue anche per questo qualche impressione di questa giornata se è la prima volta che partecipa quello che lei vuole dire che si sente di dire prego no è la prima volta che partecipo è una splendida iniziativa a sostegno di questa associazione sono felice di farne parte e sarei contento di partecipare alle prossime tra l'altro questo è il terzo incontro quindi di sicuro ci saranno tantissimi altri incontri magari anche per quanto riguarda magari la musica e altre forme di divertimento e di aggregazione e di condivisione per i ragazzi facenti parte dell'associazione e soprattutto le loro famiglie sono qui in compagnia del primo cittadino di Ceccano il signor Roberto Caligiore anche lui presente qui oggi in compagnia dell'associazione Altrementi per trascorrere insieme questa giornata dedicata alla condivisione e alla gioia Sì siamo qui presenti non potremmo mancare il comune di Ceccano sostiene fortissimamente Altrementi l'associazione abbiamo appunto dato la possibilità di suffruire di uno dei locali della nostra amministrazione per fare in modo che l'associazione partisse si radicasse e quindi poi spiccasse il volo in quello che è il grandissimo servizio che danno alla collettività e soprattutto alle persone e alle famiglie che hanno le problematiche che conoscete bene sull'autismo una splendida iniziativa e un bel segnale anche da parte vostra appunto a supportare questa associazione che fa veramente tanto per questi ragazzi e soprattutto per le loro famiglie abbiamo parlato anche prima con il presidente di future iniziative ci sono altre cose che magari come città di Ceccano potreste fare per l'associazione di sicuro è una collaborazione che è partita e che proseguirà nel tempo assolutamente sì innanzitutto ecco possono essere chiaramente soltanto dei segnali ma per il 2 aprile giornata mondiale appunto la solidarietà all'autismo abbiamo illuminato il nostro monumento principale della città monumento ai caduti con quella luce blu che simboleggia infatti la vicinanza all'autismo e chiaramente la nostra disponibilità è totale il presidente Marco Massa sa benissimo che può venire a bussare e saremo sempre disponibili in quelli che sono gli aiuti a portare avanti e fare delle stradariete per loro e per tutti i ragazzi il primo cittadino di Ceprano anche Ceprano città molto sensibile ai problemi dell'autismo molto sensibile alla solidarietà e ne ha testimonianza appunto la sua presenza buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito buongiorno a voi esperienza anche lei con Altrimenti associazione appunto avente sede in Ceccano associazione di Frosinone ricordiamo la sua esperienza con questa associazione e cosa può fare ancora Ceprano per questi ragazzi e per le loro famiglie? allora l'esperienza con Altrimenti è un'esperienza sicuramente positiva e tra l'altro ormai è diventata una piacevole abitudine ospitarli a Ceprano per questo evento insomma che dimostra quanto lavoro hanno fatto perché la presenza di tantissima gente insomma è la conferma del lavoro e dell'impegno che mettono quotidianamente in favore di questi ragazzi e Ceprano cercherà anche quest'anno di fare qualcosa in più rispetto alla semplice partecipazione a questo evento a maggio stiamo organizzando un evento simile a quello dell'anno scorso in cui partecipò il prefetto ci fu la partecipazione delle scuole fu molto bello proprio per sensibilizzare ancora di più le persone, la provincia diciamo nei confronti di questi di questi bambini che hanno si devono confrontare con una situazione così complicata perché l'autismo è una situazione persone che secondo me hanno qualcosa in più non qualcosa in meno e questo va raccontato va raccontato tutti i giorni e per questo ringrazio l'associazione Altrimenti perché proprio questo è il suo ruolo è proprio questo che stanno facendo da qualche anno tra l'altro la manifestazione di oggi questo pranzo è molto partecipato quindi significa vedo anche molte persone che hanno scelto appunto di partecipare per dare il loro contributo e sostenere a loro modo l'associazione tutto questo fa onore alla città di Ceprano fra l'altro ricordiamo siamo presso l'hotel Villa Ida di Ceprano e quindi oggi si gioca in casa e l'importante è fare del bene sempre con il cuore grazie signor Galli grazie